Il Soroptimist International è un'organizzazione tutta e rosa che riunisce donne con elevata professionalità e opera attraverso progetti diretti all'avanzamento della condizione femminile, alla promozione dei diritti umani e allo sviluppo sociale. La filiale senese compie i suoi 50 anni e per l'occasione ha voluto lasciare un segno nella città con un'opera piena di significato, con al centro uno dei temi più delicati del nostro tempo, l'ambiente. Abbiamo deciso di realizzare e commissionare un'artista senese un'opera in plastica riciclata, proprio per non unire questo tema della salvaguardia ambientale anche al tema del convegno e anche quello della tutela delle api, questi piccoli animali che con la loro peroresità sono anche un segno, un messaggio di educazione verso i bambini per la salvezza della vita. E' questo poi il significato vero e proprio anche di questa nostra iniziativa, quindi donare alla città di Siena un'opera che possa poi avere anche un significato importante sia per la salvaguardia ambientale ma anche per la tutela di questi piccoli animali. La scultura dell'artista senese Vittoria Marziari verrà inaugurata domani mattina alle ore 11 al Parco Norma Cossetto di Piazza Darmi. È stato un lavoro un po' innovativo anche per me perché io ho sempre lavorato sul bronzo, ho anche trattato le plastiche però in maniera diversa, con assemblaggio, però questa volta non potevamo fare un lavoro di questo genere perché si trattava di un monumento che doveva stare alle intemperie e del tempo e degli uomini direi e quindi bisognava fare un lavoro molto sicuro. Per cui è stato necessario appunto la stampa in 3D. Questo è un tema molto semplice, adatto per la comprensione dei bambini soprattutto. E quindi il tema sono le api e anche diciamo per realizzare questa cosa è stato difficile perché bisogna capire l'ape quanto sia minuziosa nel poterla realizzare. E quindi è stato un bel impegno però sono felice che siamo arrivati in fondo e di poter lasciare ancora una volta un'opera nella mia città. Grazie.